Il treno regionale veloce 3136 di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale e diretto a Firenze, Santa Maria Novella, nelle ore 17.04. Il treno regionale veloce 4136 di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale e diretto a Firenze, Santa Maria Novella, nelle ore 17.04. Il treno regionale veloce 4136 di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale e diretto a Firenze, Santa Maria Novella, nelle ore 17.04.